Allora, che film hai visto? La pesca di Patti Ti è piaciuto? Bello, bello, simpatica, veramente bello, mi è piaciuto tantissimo In particolare cosa hai apprezzato? Conoscevi qualche personaggio? Li conoscevo tutti, perché sono quasi tutti di Sanremo e ho apprezzato la simpatia e la spontaneità di Patti, come al solito Un voto da 1 a 10 al film? 20 Bravissima, sentiamo Andiamo a vedere la pesca di Patti Guarda che faccia felice Come mai? Come mai? Ci ha obbligato, guarda Sotto tortura Un aggettivo per definire Patti Se esiste Ho il testo Ho la sento polarizzata La conosciamo da troppi anni e ho fatto troppe cose Ce l'abbiamo fatta, se non era sopravvissente Infatti Vabbè, allora buona serata Cosa abbiamo visto la pesca di Patti? Allora ci dovete fare un commento così Come allora? Carino, sì, ci siamo molto divertite Sì, 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 ci siamo molto divertite In particolare cosa... No, no, tengo io, tanto ho le braccia lunghe Che cose? È molto simpatico, è un bello lungo comunque Tantissima gente anche, sì Carino, carino, mi è piaciuto Un voto da 1 a 10? 10, 10 10 pieno Per il lavoro, per tutto, sì, li vale tutti Grazie Prego Ho visto la pesca di Patti Ah, un commento così Un commento, andatela a vedere, è bellissimo Ma cosa ti piace in particolare? Tutto Non c'è niente di... che non mi è piaciuto Niente, tutto Tutto Un aggettivo per definire Patti Patti Ce ne sono tanti, non saprei È una comica nata È un'attrice nata Un voto al film da 1 a 10? 11 Grande Allora, cosa hai visto al cinema stasera? Patti Patti, e com'era il film? Bellissimo Cosa ti è piaciuto in particolare? Patti A Patti, quindi Puoi dare un voto al film da 1 a 10? Massimo 10? 10 10 con Il film ti è piaciuto? Tantissimo In particolare? Qualcosa? Sì Sì La scena con questo c'è tanto Quando abbiamo giocato con il telecomandino e lei stava male Un aggettivo per definire Patti Patti E... Quelli di testa Voto al film da 1 a 10? 20 Ottimo Ma cosa ti è piaciuto? Patti Cosa mi è piaciuto? La retrospettiva faccio, sì Quello che mi è piaciuto di più di Patti La scena dell'oliva alla porca Ma quelle scene sono tutte divertenti Lei è una persona fantastica, intraprendente Lo consiglio a chiunque e lo voto al massimo Quanto? Da 1 a 10? 10 con l'ode 10 con l'ode Sì Grazie 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 K